Critiche di abbigliamento dallo scrittore di moda Demet Özdemir. Demet Özdemir, che ha completato la vacanza, è tornata a Istanbul con il suo amante Oğuzhan Kok. La bella attrice, che ha iniziato le riprese del film Love Tactics, ha incontrato i suoi amici in un centro commerciale. La famosa coppia ha mangiato in un ristorante con un folto gruppo di amici. Oğuzhan Kok e Demet Özdemir, piuttosto simpatici, hanno chiacchierato con i loro amici nel luogo dove sono rimasti a lungo sotto occhi curiosi. Gli outfit indossati dalla coppia sono stati interpretati dalla fashion writer del quotidiano Uriet Hande Ken. A Hande Ken è piaciuta la scelta dell'abito della coppia nella sua rubrica intitolata, Coppia armoniosa. The fashion writer ha commentato. Non so se sia una coincidenza o abiti pianificati, ma è un completo, accoppiamento di coppia. Hande Ken ha dato i seguenti suggerimenti a Demet Özdemir sulla scelta dei vestiti. Comunque, ho qualcosa da dire sul corpo e sui pantaloncini di Demet. In tali abbinamenti è utile indossare una bella cintura o indossare una t-shirt al posto del body. Altrimenti, prevale l'immagine del non accade. Qui, sia lo stile dei jeans che il modo in cui è allacciata la bandana mettono in ombra l'outfit.